Per quanto riguarda Barghigiani, cosa è successo? Ha smentito le dichiarazioni di Cordaco, riferimento a questa presunzione. Presidente delle piane? Certamente, anche. Sugli incontri mentalmente col Teramo sono stati incontri per fare affari di... Sono smentita, almeno da parte dei miei assistiti, qualsiasi combin della partita a Savona-Teramo. Incontri di mercato, sostanzialmente? Nessuna combin, come invece ha riferito Corda. Quello che ha riferito Corda poi sarà un fatto che riguarderà lui. Quindi possiamo dire che non c'è stata combin? I miei assistiti hanno smentito poi in assoluto, cioè non possono fare discorsi assolutistici. Per quanto riguarda loro, non c'è stata assolutamente da parte loro nessuna combin, nessun illecito. E c'è lì qua nessuna messa di denuncia. Perfetto. Non posso dirvi altro. Sì, sì.